Bella ragazzi, qua è Ghiotto, è il giorno dopo di Belgio Italia 1-2, come vi avevo anticipato nel video di ieri che trovate qui in alto a destra nelle schede che ero andato a fare un po' il pre-partita, le curiosità su Belgio Italia, le sensazioni dei tifosi e non ho potuto vedere la partita ieri, fare il video perché lavoravo, poi me la sono recuperata oggi, ieri comunque sono riuscito a vedere il primo tempo una grande Italia che più va avanti più cresce, finalmente i liscetti si dicevano aspettiamo il Belgio, aspettiamo una grande partita ma ragazzi non c'era da aspettare nulla, perché questa vittoria è di chi ci ha sempre creduto, non di vincere l'Europeo, perché vincere vince uno, a volte puoi anche giocare bene, fare tutto bene, poi perdi il rigore in finale però chi ci ha sempre creduto nel lavoro di Mancini, in questi ragazzi che ha raccolto le macerie del novembre 2017, non parliamo di pre-storia, ma dell'altro ieri che non eravamo neanche qualificati ai mondiali, neanche qualificati, e ora siamo a giocarci un europeo e siamo riconosciuti da tutti, magari non da noi, adesso anche dai tifosi italiani ma di fronte all'evidenza, ma fino a ieri no, c'erano molti scettici, siamo riconosciuti da tutto il mondo come la squadra più bella, più bella che diverte, perché quando guardo l'Italia mi diverto ed è strano, perché poi l'Italia è la patria, anche nel 2006 abbiamo vinto, ma magari giocando un calcio non bellissimo, catenaccio poi non è che siamo qua, se vogliamo divertirci andiamo al circo, cheat max allegri, però diciamo che se ci divertiamo ancora meglio è una squadra che ha una sua precisa identità, che non si adatta all'avversario, o meglio non si snatura, poi ieri ci siamo un po' adattati al Belgio perché in effetti i primi 20 minuti hanno tratto in inganno anche me, perché ho detto cazzo stiamo un po' soffrendo, ma probabilmente, certo stavamo soffrendo perché poi avevamo di fronte la prima squadra nel ranking FIFA negli ultimi tre anni e un motivo ci sarà se sono i primi io l'ho sempre considerato i sopravvalutati, la squadra dei Red Davis, però comunque obiettivamente sono forti, sono in forma l'avevano vinte tutte fino adesso, quindi un motivo ci sarà ragazzi, però l'abbiamo preparata secondo me così attendendoli, facendoli sfogare, soprattutto giocando col baricentro un po' più basso perché Lukaku, che ieri è stato uno dei peggiori secondo me del Belgio, nonostante poi è stato freddo dal dischetto ma lui sappiamo che è bravissimo da calciare i rigori, se li concedi campo e spazi diventa devastante se no, se tu non li concedi quello, la profondità diventa un giocatore normale, perché poi tecnicamente si è visto che Lukaku sa usare solo il mancino il destro, su quell'occasione su assi di De Bruyne, lì un attaccante deve fare gol invece, se notate bene, non è riuscito neanche a colpirla bene, praticamente l'ha presa di piatto non so se ha tentato di stopparla e poi vabbè, Spinazzola ha salvato quel gol poi anche di testa poteva fare meglio, apro parentesi ragazzi, è una grossa perdita Spinazzola perché è uno dei nostri migliori giocatori, non fondamentale perché secondo me insostituibile ce n'è uno che è Giorginio, perché dal punto di vista tecnico, tattico è sopra tutti, e poi gioca in un ruolo centrale, quindi è più importante Spinazzola gioca in un ruolo, diciamo, secondario sull'esterno è un'arma importante, perché poi è uno dei pochi che punta l'uomo sa usare il destro, sa usare il mancino allo stesso modo è imprevedibile, grande velocità, era in grande forma però Emerson Palmieri è un giocatore che terrà più la posizione però può dire la sua, ma poi è riduttivo andare a valutare il singolo andare a dire, eh se ci manca, quello l'inor, perché questa squadra è proprio squadra ragazzi, ed è quello che più mi piace perché io sono convinto che, a parte forse Giorginio, ma non c'era Verratti c'era Locatelli, non c'era Immobile, meglio, perché poi ci arriviamo ieri ho giocato malissimo, peggiore in campo io sapete che sono onesto, lo dico, anche se sono laziale perché poi io tifo la nazionale adesso, ok? cioè tifo la nazionale, però in questo caso sono uguali, sono tutti uguali e io infatti avevo suggerito di far giocare Belotti perché ieri era una partita più fisica da Belotti in cui serviva tenere palla là davanti, prendere i falli Immobile purtroppo non sa fare quel gioco lì e stavo dicendo che ci sono tanti giocatori importanti però è il gruppo, ok? perché non c'è Berardi, c'è Chiesa non c'è Donnarumma, sono convinto che c'è Sirigu anche se poi Donnarumma ieri ha fatto una parata su De Bruyne ragazzi, che forse è la parata più bella del torneo veramente grandissimo quindi la cosa più bella di questa squadra è proprio il gruppo, l'unità di intenti che c'è che ha creato Mancini e poi anche, diciamo, siamo una squadra camaleonte quindi sappiamo soffrire perché con l'Austria molti erano scontenti eh, ma se soffriamo con l'Austria ma io vi avevo detto, l'Austria è forte ragazzi, noi soffriamo più l'Austria infatti sono contento, tra virgolette che ci abbiamo la Spagna e non la Svizzera perché noi soffriamo le squadre che corrono le squadre fisiche le squadre che ti aspettano invece il Belgio ieri è venuto a prenderci alta e poi l'abbiamo colpita in contropiede poi se andiamo a analizzare i gol diciamo, il primo gol di Barella se l'ha inventato lui bella palla di Verratti poi c'era Immobile a terra che ha un po' distratto la situazione comunque poi Barella in mezzo a due è sguizzato e ha dimostrato la pochezza del Belgio in difesa ma questo già lo sapevamo che era il punto debole perché erano in tre si sono fatti soffiare da Barella poi è incrociato, bravissimo e forse Courtois poteva forse chiudere un po' meglio lo speg però ha preso palo gol poi Barella abbina quantità e qualità in maniera incredibile e poi il secondo gol appunto un'azione diciamo di ripartenza e finalmente Insigne ha azzeccato questo tiro a giro bel dribbling secco e poi Dornita mi pare di Vertonga perché non puoi non uscire lì su Insigne cioè lì era proprio una posizione da tiro a giro poi ha tirato proprio bene Courtois ci ha provato però magari Donnarumma l'avrebbe parata secondo me perché è veramente incredibile Donnarumma diciamo che 12 milioni sono un po' troppi però li vale diciamo che lui li vale e niente quindi ieri Insigne è salito in cattedra nei momenti decisivi era un po' mancato con l'Austria anche nelle scorse partite era troppo lezioso ieri invece sono saliti in cattedra i nostri diciamo campioni perché poi si dice questa nazionale non ha campioni ma perché il proverbio il giardino dei vicini è sempre più verde il giardino degli altri è sempre più verde è proprio secondo me una una regola di vita è proprio vero perché la mentalità della persona è sempre dire che gli altri sono meglio che quello che non c'è è meglio ma il Belgio l'abbiamo visto c'è fenomeno il Belgio Giro e Ribalta ne hanno due e non è Lukaku ne ha De Bruyne che anche ieri ha giocato da mezzo infortunato ma è stato comunque una spina nel fianco grossa perché ha fatto un tiro all'incrocio che Donnarumma ha fatto una parata incredibile un assist a Lukaku solo da buttare in porta potrei fermarmi lì più tante alte verticalizzazioni e poi Courtois che secondo me il drago Courtois è un grandissimo portiere gli altri buoni giocatori ma noi il gruppo è prevalso di fronte al singolo perché poi il Belgio questo europeo cos'è che ci ha insegnato ci sta insegnando che bisogna alzare il livello di gioco bisogna proporre calcio cioè che la squadra giocare a calcio prevale rispetto al singolo ok perché poi c'è ancora gente che è dubbiosa su questo perché il Belgio per ora aveva un girone mediocre bravissimi a vincerlo bravissimi a arrivare primi ma non giocavano bene neanche il girone noi sì che avevamo un girone facile è vero intanto bisogna vincere passare che non è scontato però noi abbiamo vinto e convinto dominando anche squadre come la Svizzera che alcuni dicevano che erano scarsi sono rivelati forti il Belgio io l'ho visto le partite si accontentava di vincere di inerzia anche con la Russia una Russia imbarazzante ha vinto 3-0 grande Belgio grande Belgio ma non ho visto un grande gioco palla a Lukaku palla a De Bruyne col Portogallo hanno trovato quel gol diciamo in ripartenza e poi si sono chiusi e basta e non è una mentalità che ti porta a vincere l'europeo ti porta a arrivare ai quarti in semifinale ma deve alzare il livello di gioco una squadra come il Belgio che ha qualità dal centrocampo in su deve fare di più Roberto Martinez lo saluto e gli faccio i complimenti che è stato onesto lui l'aveva già detto prima della partita che l'Italia è la nazionale più forte e non era una gufata ma come vedete all'estero ci riconoscono come forti siamo noi che a volte non io ma tanti sono scettici contro questa nazionale e infatti è stato così ragazzi il Belgio ha dimostrato tanto che se li blocchi Lukaku De Bruyne non era al massimo mancava Azar diventa una squadra fisica maschia perché è stata una partita maschia grande ritmo è stata bella piacevole ma noi abbiamo più qualità ok adesso c'è la Spagna che è molto pericolosa perché sta andando increscendo cioè in una competizione così spesso chi parte piano viene fuori alla distanza è successo così per la Svizzera che è uscita ma saluto Petkovic perché hanno fatto un grande europeo e sta succedendo così per la Spagna anche se tornando sempre al giocare a calcio la Spagna io l'ho vista anche ieri è andata in vantaggio anche un po' casualmente con un autogol e poi si è accontentata di fare melina di non provare a fare il 2-0 anche nonostante la superiorità numerica tra parentesi fallo di Freuler che per me non era assolutamente l'espulsione e poi ha rischiato di uscire quindi non è anche quella una mentalità secondo me che ti porta a vincere però intanto sono in semifinale e poi sai nella partita secca tutto può succedere quindi ogni partita ha la sua storia e per quanto riguarda ieri io faccio complimenti a tutti anche a Chiellini Bonucci che sapete che io io avrei fatto giocare a Cerbi ma non per che è Laziale ma perché ritengo comunque che a Cerbi ti dia più garanzia anche dal punto di vista fisico perché poi Chiellini tante volte lo metti poi si infortuna ieri per me non è stato il duello Chiellini-Lukaku ma è stata proprio la fase difensiva dell'Italia perfetta che a parte Doku che veramente è stata una spina nel fianco ma andava al 3000 all'ora Di Lorenzo ha sofferto un po' ma è normale siamo stati poco impensieriti abbiamo lavorato bene come fase difensiva e anche copertura del centrocampo perché Giorginio non è solo impostazione ma è proprio dal punto di vista tattico fa un lavoro incredibile anche nelle chiusure cioè è sempre nel momento giusto nel posto giusto scusatemi nel momento giusto quindi questo è sintomo di grande giocatore che va al di là di quando hai la palla nei piedi fa i lanci cioè Giorginio non è solo un classico regista ma è qualcosa di più una fusione veramente tra Pillo e De Rossi che De Rossi ricordiamo che lui giocava lì ma spesso faceva il terzo di difesa e Giorginio veramente tanta tanta roba e è mancato un po' immobile ragazzi cioè ieri non ha avuto tante palle giocabili è vero però devi almeno prendere i falli tenere sulla squadra e non sei stato in grado di fare quello e dimostra le sue pecche nel 4-3-3 deve avere un attaccante di manovra lì davanti che ti sape tenere palla e Mancini deve essere bravo a fare la staffetta ok come oggi come ieri ha fatto giocare Chiese ha fatto bene al posto di Berardi nonostante Berardi a parte con l'Austria ma sta facendo anche lui un grande europeo anche ieri è entrato bene però devi capire chi sta meglio e anche poi le partite sono diverse quindi per me magari con la Spagna può essere una partita adatta a Ciro Immobile ieri era da Belotti infatti Belotti sia con l'Austria sia oggi quindi partite fisiche è entrato e ha fatto bene almeno ha fatto salire la squadra ed è quello che deve fare una punta ok perché una partita non è facile anche per Lukaku sai è facile criticare ma non è facile era là da solo servito male eh Belin ragazzi però almeno devi far salire la squadra Lukaku l'ha fatto nel suo piccolo ok Immobile no e questo è grave ragazzi io non mi nascondo assolutamente per ora aveva fatto bene anche con l'Austria non benissimo ma almeno si era fatto vedere ieri si è anche in Caponito a tirare lui cioè non va bene Ciro non va bene hai detto nell'intervista che tu scambieresti i tuoi gol per la vittoria dell'Europeo è però non predicare bene e razzolare male ok però noi crediamo in te assolutamente c'è grande entusiasmo c'è fiducia ma non abbiamo vinto nulla ragazzi io come detto non ero disfattista dopo l'Austria perché dopo l'Austria molti ma se soffriamo contro l'Austria non mi esalto ora occhio non siamo già in finale non abbiamo vinto nulla e non sottovalutiamo le furie rosse perché sono una squadra che è abituata a vincere il Belgio non lo è e nella nazionale la storia la fa anche da padrone più che i club capito quindi in una partita secca attenzione alla Spagna anche perché comunque nonostante tutto l'ho vista in crescita lo stesso Morata in crescita sta ritrovando fiducia perché poi le vittorie sono passate dalle critiche poi a tante vittorie anche con Goliade comunque con la Croazia con la Slovacchia ti danno fiducia consapevolezza nei propri mezzi però penso che noi di quella consapevolezza ne abbiamo tanta ma fin dall'inizio ok e ripeto questo è l'europeo di chi come me ci ha sempre creduto in questi ragazzi e anche dovessimo uscire state tranquilli perché noi stiamo costruendo qualcosa per essere protagonisti anche al mondiale che è tra un anno e mezzo quindi questo gruppo qui andrà anche al mondiale più o meno magari non ci sarà più che lì non lo so qualcuno non ci sarà più però più o meno il gruppo sarà questo perché poi è una squadra abbastanza giovane è chiaro quindi anche dovessi uscire adesso stai tranquillo perché noi saremo competitivi i prossimi anni Mancini dovrebbe rimanere lunga vita Mancini e niente ragazzi io chiudo qua il video Forza Italia commentate con la vostra opinione like al video bella Forza Italia